Anche Mariano Labbanca del gruppo per Lauria chiede lumi all'amministrazione comunale sulle eventuali stanze di esplorazione e ricerca di idrocarburi sul territorio, il progetto tardiano. Il consigliere di minoranza lo fa con una interrogazione inoltrata al sindaco Mitidieri e all'assessore Zaccagnino. Allo stesso tempo coinvolge il consigliere regionale Gianni Rosa e l'ex consigliere regionale del centro-destra Mariano Pici. La maggioranza che governa Lauria, scrive nel documento Labbanca, fornisca notizie in merito alle eventuali richieste. La stampa ne ha parlato, anche alcuni giovani hanno fatto bene a discutere di petrolio. Mi sembra opportuno che gli amministratori rispondano al più presto. La popolazione, ha detto Mariano Labbanca, non deve vivere di sentito dire, pretendiamo la trasparenza. Ma come stanno le cose? Dal Ministero dello Sviluppo Economico risulta l'interesse mostrato da una società internazionale per delle estrazioni petrolifere da avviare a Lauria e nel Lagonegrese, richiesta del 2013. Lo stesso Mise e la Regione Basilicata chiedono però ulteriori chiarimenti sul tardiano. Dunque, tra incertezze e burocrazia, in città nasce il Comitato Lauria Ambiente e Salute. Non sappiamo ancora nulla di questo permesso, raccontano dal Comitato, e non conosciamo quale sarà la decisione che gli organi preposti sarebbero sul punto di prendere. La stessa richiesta di esplorazione, fanno sapere dal Comitato, è stata affrontata diversamente nei due paesi campani oggetto dello stesso tardiano, pronti al no, e cioè Casalbuono e Montesano, e dal movimento hanno apprezzato tale comportamento. In realtà, dal palazzo di città di Lauria, già si sono espressi, ma a quanto pare, le dichiarazioni dell'assessore all'ambiente, Donato Zaccagnino, non avrebbero soddisfatto il consigliere La Banca. Nessuna richiesta per le ricerche petrolifere è depositata al Comune, spiegava nei giorni scorsi Zaccagnino, ma approfondiremo e seguiremo l'evoluzione della questione.